C'è voluto un ricorso al Tar Lazio contro il MIUR e il Ministero della Pubblica Istruzione per giustificare l'assenza alla prova orale del concorso da docente di una mamma teramana che in quel momento stava partorendo il suo bambino. È incredibile ma è stata necessaria un'ordinanza del Tribunale Amministrativo perché questa donna avesse riconosciuto il diritto a sostenere l'esame orale in altra data, diversa magari da quella della nascita del proprio figlio. Il caso della neomamma esclusa dal concorso unico in Italia è stato così preso in carico dalla consigliera di parità della provincia di Teramo che ha immediatamente intuito la grave discriminazione di genere. Com'è andata? Ad agosto durante l'estate si è rivolta a me una neomamma disperata perché aveva perso una chance, quella di poter partecipare al concorso per l'insegnamento. Un concorso che sicuramente si ripeterà chissà tra quanti anni e la sua chance l'aveva perduta perché era in ospedale a dare alla luce il suo piccolo bimbo. Ho subito preso in carico questa neomamma e ho dato mandato alle avvocate del nostro ufficio per procedere dinanzi al tar. Come avete impostato il ricorso? Il ricorso è stato impugnato soffermandoci sull'articolo 7 e sull'illegittimità dello stesso proprio in violazione del codice delle pari opportunità oltre che ovviamente sulla violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Quindi il fatto che l'ufficio pubblico non sia stato in grado di tutelare la ragazza oltre che ovviamente ha dato atto ad una serie di omissioni. E ovviamente anche la violazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della Costituzione e non che l'articolo 51 cioè il fatto che le donne debbano avere la possibilità di accedere al concorso alle stesse condizioni degli uomini. Quindi è stata una vera e propria discriminazione per il semplice fatto che questa giovane donna aveva partorito il giorno precedente. Insomma voi avete vinto e farà giurisprudenza in Italia questo caso? Perché è il primo caso in Italia in cui una donna viene discriminata per una questione di genere ed è esclusa da un pubblico concorso. Infatti noi nel redigere il ricorso non abbiamo trovato molta giurisprudenza al nostro sostegno se non una piccola sentenza del Tardicatanzaro ma non faceva proprio riferimento al caso l'esclusione a causa del parto. Quindi diciamo che abbiamo creato un precedente giurisprudenziale importante perché adesso tutte le donne che verranno escluse dal concorso a causa per via, per causa di maternità potranno essere finalmente riammesse. E' soddisfatta. Tantissimo perché è una bellissima vittoria che farà sicuramente giurisprudenza ma soprattutto abbiamo ridato la dignità a una donna, anzi a una mamma.